Si è tenuto questa mattina presso la piazza di Agropoli il tradizionale lancio dei palloncini di Natale a cura dei bambini delle scuole materne del primo circolo. Un modo per far volare alti sogni e desideri che in questo tempo di Natale si caricano di sentimenti di solidarietà verso tutto il mondo. Attaccati a dei palloncini e scritti su dei cartoncini a forma di stella, gli auguri dei più piccoli per un mondo migliore hanno preso il volo per diffondersi poi ovunque. Grazie